Amiche, io volevo chiedervi un consiglio per quanto riguarda la fotocamera, alcune di voi ho visto alcuni video su YouTube che alcune ragazze utilizzano la fotocamera, io non avendo la webcam volevo sapere da voi che non sono molto pratica, come posso fare per fare i video con la fotocamera, perché io ho una macchina digitale della Pentax e non so come potrei registrare i video, perché mi piacerebbe farvi il tutorial che tanto vi ho promesso, siccome vorrei farlo al più prezzo possibile, ora che ho acquistato tutti i materiali, compresi i svaroschi, che mi devono arrivare a giorni, mi piacerebbe farvi i tutorial che vi ho promesso, se mi aiutate, mi date i consigli, oppure non so qualche informazione, perché io sto provando a cercare di vedere le impostazioni della fotocamera, ho visto che c'è la registrazione, ma non so come devo fare, sia per salvare quello che registro e per poterlo caricare, non sono pratica di queste cose, come avete capito, se mi aiutate io vi ringrazio tutte, speriamo di fare il più presto possibile questi tutorial.